ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vedremo il numero 8 e 11 dei fumetti della world disney che sto facendo la collezione allora questo come vi ho detto tempo fa l'ho ordinato su ebay e mi è arrivato in un'edicola era l'ultimo l'ho trovato a poco presto e conviene ragazzi non ce ne sono più quindi me l'ha impacchettato molto bene è arrivato molto bene vi faccio vedere anche com'è trattato bene perché è come nuovo cioè nuovo praticamente è nuovo perché io l'ho preso nuovo io prendo la roba nuova ragazzi quindi l'ho trovato su ebay questo che sia chiaro non l'ho preso in edicola perché aveva fatto il ritardo mi è arrivato quando mi è arrivato questo quindi in edicola però l'edicola lo tiene da parte ma non so per chi io non lo prendo perché ce l'ho già e quindi non conviene ho speso anche di meno risparmiato due euro mi pare questo è bambi questo l'ho preso venerdì in edicola invece comunque andiamo a vedere subito quello di due storie poi iniziamo a vedere quello di bambi quindi questo è il tuo storie che non vi volevo dire che cos'era è il primo di due storie quindi molto bello è fatto bene vedete come trattato bene ma ci sono tutte le immagini dei fumetti come sempre che vi faccio vedere faccio vedere all'inizio che è più importante ci sono tutti i personaggi cioè buzz woody andate a vedere sui storie che è molto bello anche su disney plus l'ho trovato se non ce l'avete non c'è nessun problema che lo trovate da tutte le parti handy slinky rax alieni gli alieni m bu pip e poi molto interessante perché qua inizia la storia vi consiglio anche molto che il mio preferito è il numero 4 sono arrivati fino al 4 di tua storia molto molto bello e ve lo consiglio ok anche il primo fa morire da ridere è carino però consiglio anche primo tutti quanti bambi invece vediamo il numero 11 questo è il numero 11 quasi sono tutti gli animali come potete notare c'è bambi che è poi la mamma di bambi che purtroppo muore io deduco che l'avete visto tutti bambi io spero di sì mi auguro fiore è una storia un po' drammatica però ci sta nello stesso tempo per i bambini grande principe del bosco quello che aiuta bambi se non vado errato a ad andare avanti perché lui perde la mamma a pochi anni e ormai era cresciuto però si aveva ancora bisogno di sostegno quindi questo cartone vi insegna praticamente ad affrontare difficoltà anche senza un adulto secondo me ditemi qua sotto nei commenti che cosa vuoi riguarda questo cartone per voi che cosa vi raffigura amico gufo e tippet che era l'amico è l'amico di bambi molto carino e qua c'è tutta la storia che spiega carina ma fatta un po' così vedete qualche strano qua è pieno di colori ma bambi mi hanno detto che è stato fatto così però io non mi ricordavo bambi vedete è un po' vecchio quindi ma è normale però se notate pinocchio che dopo vi faccio vedere pinocchio non è così il primo fumetto che ho ricevuto vi ricordate che non era così ed è vecchio pinocchio quindi non so cosa è successo magari un errore di stampa dite una qua sotto nei commenti se voi l'avete comprato e vi riguarda che è così mi fa vedere che così vedete dopo lui cresce un serbiato e dopo c'è il secondo c'è anche il due ragazzi c'è anche il due vedete il prezzo è di 6 euro e 90 scusate se non ve l'ho detto anche per questo è 6 euro e 90 ma io sono dato di meno quindi questi sono i due libri che aggiuntivi si aggiungono alla mia collezione lotto e numero 11 che mancava lotto di testori e bambi vediamo gli altri quindi prendiamo tutti gli altri e li mettiamo così quindi abbiamo non sono in ordine numerico abbiamo la carica del 101 che numero 7 come potete notare qua a fianco luca abbiamo pinocchio il re leone la sirenetta e aristocatti frozen 2 aladin bambi e tristori sono 10 libri in totale dal numero 1 al numero 11 fantastico pinocchio vi faccio vedere vedete che qua è fatto meglio qua è fatto meglio anche qua le immagini non è fatto come bambi ed è vecchio quindi abbiamo il numero 1 e poi abbiamo il re leone come potete notare abbiamo la sirenetta gli aristocatti frozen 2 l'abbiamo visto anche quella versione piccolina dei fumetti andate a vedere il video della versione piccola che ho fatto e non sono proprio fumetti sono libri a 2 euro e 90 e sono molto belle poi le ho visti anche nei supermercati quindi secondo me li trovate anche all'ipercop eccetera in libreria non lo so di preciso devo girare dei posti comunque vi farò sapere vi aggiorno intanto io le ho visti anche all'ipercop e al famina quindi se non potete andare al famina è andata all'ipercop ve lo consiglio il famina è sempre un supermercato per chi non sapesse cos'è comunque noi ci vediamo al prossimo video quindi mettete un bacio mi piace al video commentate e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video noi ci vediamo al prossimo video e che sarà prossima settimana con il numero 12 dei fumetti della wall vision quindi ciao a tutti al prossimo video ciao